L'Avis e la Coldiretti insieme per la solidarietà. L'Associazione Foggiana degli Agricoltori ha siglato infatti anche quest'anno la convenzione con l'Avis Provinciale e l'Avis del Comune di Foggia, con la quale si impegna a prestare assistenza fiscale gratuita a tutti i volontari delle associazioni donatori che ne facciano richiesta relativamente all'elaborazione dei modelli dichiarativi 730, Unico, Ise e di altre pratiche fiscali. Siamo qui alla Coldiretti per il secondo anno consecutivo a firmare questa convenzione per regalare a tutti i nostri donatori la compilazione del 730. Sicuramente è una collaborazione proficua che ci ha visto a partire dall'anno scorso e che continueremo sicuramente in futuro. Quest'inverno abbiamo anche un progetto con loro che non spoileriamo, che però sicuramente andrà in porto. Un gesto vitale proprio in questi mesi estivi, quello della donazione, mesi dove si registra la forte carenza di sangue negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Ogni anno infatti durante l'estate l'Avis lancia l'appello a donare, un gesto che dovrebbe essere compiuto sempre durante tutto l'anno perché è un gesto di profondo amore verso il prossimo. A tutti coloro che doneranno il proprio sangue durante l'estate 2023, l'Avis Foggia donerà piccoli gadget da utilizzare in spiaggia durante le proprie vacanze. Oggi è stata rinnovata questa importante convenzione tra Coldiretti e Avis Foggia. Per i donatori, Avis donatori di sangue verrà data a consulenza fiscale gratuita, quindi il cosiddetto 730. È un qualcosa che Coldiretti già faceva e si impegna a fare ancora di più. È importantissimo che sempre più persone riescano a fare delle donazioni, soprattutto in un periodo estivo quando il trend di donatori cala e invece c'è sempre più bisogno di sangue.